un'inezia, però insomma tendono poi a sballare tutto il palinzesto, ci colleghiamo con Marco Marchese, ecco Marco dovrebbe essere in onda in questo momento, eccolo qui, ecco Marco Marchese che è il segretario dell'associazione radicale Calabria Radicale, giusto Marco, aspetta che ti faccio comparire, speriamo che tutto vada bene, ecco qui Marco Marchese, ciao Marco, come va, cosa c'è in Calabria? Beh, qui tutto bene, giornata calvissima, voi riuscite a vedermi? Sì, ti vediamo benissimo Ah, perfetto, ok, aggiunto un po' l'inquadratura Ah, no, sì, sì, ho messo Marco Marchese, però non si vede, aspetta un attimo Giustamente se tu dici vedo te e non vedo me Ah, no, io riesco a vedermi Ah, ok Grazie, ci diamo, ci diamo tutte e due Ok, no, perché va prima quello e poi... Ah, no, mi sono basato sul ritardo e forse... Sì, sul ritardo, sul ritardo Ma adesso sta andando tranquillamente, sta andando quello che è Allora, Marco, cerchiamo di dire, in sintesi innanzitutto voglio farti una domanda Cosa c'è all'ordine del giorno dell'iniziativa militante, l'iniziativa politica militante radicale Per i calabresi, per i compagni calabresi Di cosa vi state occupando, oltre che, diciamo, delle battaglie che il Movimento fa a livello nazionale Nello specifico, voi in Calabria, di cosa vi state occupando in questo periodo? Allora, noi siamo usciti da poco tempo fa Un mese fa abbiamo completato un lungo lavoro Che ha portato all'assemblea straordinaria di Calabria Radicale E dove abbiamo presentato cinque relazioni E poi questo è finito tutti in una mozione generale Per cui sarà il lavoro che ci verrà impegnati fino a dicembre Ci siamo occupati, abbiamo presentato una relazione sul damianto L'abbiamo proprio titolata lacrime d'amianto Poi ci siamo occupati di disabilità e di stabilizzazione E di progettare rossamando Quindi vado proprio per i titoli di queste relazioni Di diritti civili, così rifatti alla città e allo Stato E poi ci siamo occupati di ingrandita Cinque argomenti assolutamente impegnativi E questi qui saranno adesso Gli argomenti che porteremo avanti con la nostra identità politica Io vorrei poi in questo periodo, nello specifico Ci stiamo anche occupando di una discarica Che comparsa proprio sotto le nostre finestre E là ti fermo, e là ti fermo, e là ti fermo Perché dobbiamo far vedere un video a chi ci sta seguendo E dopo... Come nella mia tradizione lanciamo il servizio Lo possiamo anche commentare insieme mentre lo vediamo se ti va Allora spostiamoci un attimo Resta collegato Marco Spostiamoci un attimo di qua e vediamo questo video Buongiorno a tutti, sono Marco Marchese Il segretario di Calabria Relicale Siamo qua nella nostra sede A Nocera Terinese Marina E purtroppo sotto i nostri occhi E senza che potessimo farci nulla Ci hanno praticamente tolto il panorama Andiamo a vedere Allora, che cosa è accaduto? È accaduto, come vi dicevo prima Che proprio sotto i nostri occhi Si è formato Guardate direttamente voi Una discarica abusiva Grazie a tutti Che vergogna! Allora, non è che le discariche si formino da sole, c'è un po' una storia, una piccola storia dietro a questo e che con questo video vogliamo raccontarvi. Prima di tutto vi faccio vedere che cosa è uscito sul quotidiano Calabria ora, grazie proprio ad una nostra segnalazione. Ecco qua, vi leggo l'articolo così già avrete chiare le idee di che cosa stiamo parlando. Discarica abusiva in spiaggia, nocera terinese, sotto cumuli di sabbia e ammassati rifiuti di ogni genere. Una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto su una parte dell'arenile di nocera terinese, a metà strada tra l'abitato e la spiaggia, all'altezza di un notissimo albergo del luogo. E quando si può constatare, passando da queste parti, cumuli di sabbia e sovrapposti, sotto i quali vi sono letteralmente nascosti rifiuti di ogni genere e quantità fanno ormai bella mostra di sé da parecchi giorni lungo una parte consistente del litorale di questo noto centro turistico del mare Tirreno. Vittor Roberto? Sì, è veramente terribile, ma la cosa incredibile è che queste scene non sono, purtroppo non avete voi l'esclusivo in Calabria, perché molte di queste discariche simili le vedo formarsi come funghi anche dalle mie parti e deve stare il Salento, quindi... Allora... Esatto, io direi che a questo punto con il video possiamo... Abbiamo filmato, oggi? Sì. E quindi possiamo tornare, se vuoi, in diretta, così possiamo continuare la nostra conversazione, perché... Assolutamente sì. Abbiamo reso, diciamo, abbastanza ben un'idea di che cosa sta accadendo, di che cosa è accaduto sotto le nostre finestre e devo dire che abbiamo avuto anche un po' di difficoltà, perché abbiamo fatto un comunità per stampa, che devo essere sincero è stato ripreso da praticamente tutta la carta stampata calabrese e ha stato dato molto rilievo a questo, anche perché qui poi la responsabilità è da solune, nel senso che cosa è accaduto? È accaduto appunto che questa palla meccanica, senza che nessuno si è andato a fare un soprano che è andato a fare un'altra carta, e allora poi ci sono trovato tutto questo materiale, non sapevano dove metterlo, e hanno pensato bene di metterlo sotto le nostre finestre, non è che ce l'hanno fatto la posta a noi da carità, però così è stato. Questo, diciamo, è un indice di mancanza di programmazione anche quando si fanno le cose. Adesso è quasi un mese che questo materiale è depositato lì e devo dire che dopo due incontri che abbiamo avuto con l'amministrazione e dopo che venerdì sono salito io stessi in comune a tirare le carte, cioè nel senso tu vai lì e dici sì c'è un'ordinanza, l'ordinanza non si sa dove è, non è calentata, e allora poi faccio un po' di richiesta formale di vederla con l'ordinanza numero 105, allora ieri, quindi punta cala, casualità, ieri di sabato, allora è arrivata finalmente la vista che ha cominciato l'avversione di Puglia. Sono incominciate ieri pomeriggio, c'erano 7-8 persone che hanno incominciato a smaltire questa incontrizia, penso che stamattina non c'erano, poi andranno avanti sicuramente domani e il problema sarà cresciuto. Allora questa adesso è un'azione, una cosa diciamo assolutamente piccola-piccola che accade, però è indice poi dopo di tutta la malagestione che avviene a cominciare dai comuni e per finire poi dopo alla gestione dello Stato italiano. Se solo ci fosse più senso civico, se solo ci fossero tante associazioni che denunciassero questo, perché penso che non c'è nemmeno bisogno di dire tante parole per descrivere quello che abbiamo documentato nel filmato, è un piccolo scandalo che riguarda proprio una piccolissima porzione del territorio, ma che poi come dici tu che cosa riguarda? Riguardo invece tutti, perché queste realtà ci sono dappertutto e allora i cittadini che cosa devono fare? Devono pretendere che le istituzioni facciano il loro dovere, che lo facciano anche in fretta, c'è bisogno di pulirle queste spiagge, altrimenti quel fuoco che abbiamo continuerà oltremodo a deteriorarsi e non avremo nulla di questo splendido paese, non è che ci riempiamo la bocca con gli 800 di ombre di spiaggia nella Calabria, i 1200 di ombre di spiaggia nella Puglia, quando poi non siamo dalle condizioni di tenerle in manutenzione. Noi partiremo da questo nel comune perché, cioè siamo volutamente, noi ci siamo trasferiti da non molto tempo in questo comune, all'Oceano Terinese, siamo partiti da questa cosa che ci ha toccato proprio da vicino per andare ad attaccare i problemi a cerchi concentrici sempre più grandi, perché non è che il problema ambientale di l'Oceano Terinese è solo questo, no, c'è un problema gravissimo ad esempio su metterli effettivi sull'amianto, quindi il prossimo passo, nei prossimi giorni, nel prossimo settembre sarà proprio questo, ti avremo conto dell'applicazione delle leggi che volevano in un tempo ragionevolmente breve risolvere, o perlomeno abbiazza la risoluzione del problema della mia alta in Italia, noi vogliamo sapere che cosa fa con l'istituzione comune, che cosa fa con l'istituzione regione, lo sappiamo già in realtà, quindi possiamo aprire e chiudere parentesi, niente, e quindi noi chiederemo nelle prossime settimane l'applicazione di leggi già esistenti per affrontare anche questo gravissimo problema, che è il problema della diffusione dell'Epernit e dell'Aliato. Ora Roberto, per dirti anche le altre attività, non spieghiamo prima in anteprima, noi siamo impegnati con questa assemblea straordinaria alla quale abbiamo avuto la partecipazione di Nascopanella, la direzza di domenica 20 giugno sul Red Radicale, di cui siamo rimasti molto contenti. Ecco, questo ha creato cinque argomenti di cui ci vogliamo fare e questi cinque argomenti adesso andremo in una prossima riunione di direzione che non è stata fiscata, ma la parliamo nel giro di pochi giorni, verranno fuori dei responsabili, dei responsabili di settore, responsabili della tematica dell'amianto, quella della disabilità, quella della rossamazione, della nuova progettazione, della nuova diagnostica attraverso l'installazione, i responsabili dei diritti civili, perché qui c'è anche molto da fare, la Calabria è l'unica regione che a livello regionale, ma nemmeno i partiti politici hanno proposto mai nulla, e poi dopo il problema della criminalità organizzata per l'america. Ecco, avremo cinque responsabili che porteranno avanti iniziative politiche sempre più frequenti, sempre maggiori, e io saluto veramente controvoco la cultura di Canada, per scontarci veramente un amaro anche a fare la cassa di risonanza a queste tematiche, con speciali e con strumenti veramente, ci avete visto il video prima? Per denunciare queste cose non abbiamo bisogno dell'alta definizione, diciamo che queste cose qui non cercano a livello mediatico, come ti posso dire, la definizione e l'alta definizione come la si pretende magari da una partita di calcio oppure da un vertigo, basta veramente poco, basta una telecamera che costa poco e chi vuole spendere proprio pochissimo la prova addirittura sui dei di seconda mano, con un po' di cautela si riescono a fare anche dei buoni affari e poi si possono utilizzare strumenti gratuiti come il portale Fai Notizia, no? Allora uno fa il video con un programma di editing che ce ne sono, di software libero, quindi senza nemmeno andare su prodotti che costano, su programmi che costano chiedere di euro, se uno si fa il proprio editing basta che esce fuori un prodotto mediamente apprezzabile può essere messo in rete e uno strumento di cura di cane può fare ottimamente da cazzo dell'elettorale. Assolutamente sì Marco, assolutamente sì, devo dire che voi nella vostra associazione siete veramente avanti in questo senso perché già da tempo fate questo lavoro di documentazione, audio-video, anche le vostre riunioni, le vostre associazioni, ho visto le assemblee sono registrate in audio-video e immagino poi di essere disponibili sul sito, quindi una cosa che anche noi qui a Lecce abbiamo cominciato a fare dal 2006 mi sembra e quando provammo anche a lanciare una web tv però non poteva avere, non ha avuto successo perché di fatto era una web tv di proprio di super nicchia, mentre in questo caso perché stiamo tentando di formare con figura di cane in una rete tra più compagni militanti che magari vistano migliaia di chilometri, 2000 chilometri l'uno dall'altro, però in rete si può portare avanti un progetto comune e far diventare anche la rete un terreno sul quale portare avanti un'iniziativa politica militante radicale, quindi questa è un'iniziativa. Assolutamente sì. Matteo Menardi sulla chat chiede quanti iscritti ha l'associazione, ebbene siamo arrivati a 33 iscritti. Complimenti veramente. Grazie, grazie davvero perché per lo standard radicale diciamo è un numero che incomincia a diventare interessante. Fra questi 33 iscritti ce ne sono anche una diecina che sono iscritti a radicali italiani oppure ad altri soggetti, circa la metà sono iscritti a radicali italiani pacchetti e altri soggetti, questa è una cosa assai importante e a settembre apriremo di nuovo una nuova campagna di iscrizione con l'obiettivo di raddoppiare gli iscritti, per cui ci porremo un obiettivo di almeno 60 iscritti. Roberto se tu sei da qui… Sì, io ti darei la linea per il prossimo quarto d'ora, così recuperiamo i 3-4 minuti di ritardo, quindi metterei in video solamente te, così io mi vado un attimo a rifacillare di 5 minuti, insomma a rifacillare, non solo, e così fai la rassegna stampa che avevi detto appunto sulla questione dei più di 300 arresti, l'operazione crimine, l'hanno chiamata, più di 300 arresti tra la Calabria e la Lombardia per presunta affiliazione all'Andrangheta. a te il video e comincia questa rassegna stampa. Benissimo. Allora, come appunto abbiamo anticipato, nella notte tra il martedì 13 e la mattina di mercoledì 14 luglio, quindi nella passata settimana, è stata condotta un'importante operazione anticrimine, che ha operato sull'Andrangheta e ha operato tra la Calabria e la Lombardia. E adesso io per questa qui ho una rassegna un po' ragionata, non è tanto una rassegna stampa, nel senso non vedremo molti quotidiani, ma ne vedremo uno solo e andiamo a strada delle parti più interessanti che abbiamo potuto leggere su questo quotidiano. Ci sappiamo su quello che ha scritto Calabria ora, perché ci sembra il quotidiano che ha meglio seguito questa operazione. Questa operazione, diciamo, ha scosso la comunità calabrese in generale, tant'è vero che i due quotidiani, i tre quotidiani più diffusi, ognuno di loro, tra mercoledì e oggi e domenica, hanno pubblicato qualcosa come 35-40 pagine ogni quotidiano proprio su questa operazione, proprio per rimarcare l'importanza. Comunque, al di là delle mie premesse, voglio partire con quello con la quale Calabria ora ha aperto su questa importante operazione che è lo straccio, l'incipit del rapporto dei carabinieri, un rapporto dei carabinieri chiamato l'infinito e il cui incipit è questo. Questa purtroppo non è una storia fantastica, questo è il titolo. Questa purtroppo è una storia vera, anzi, la storia di un gruppo di, tra virgolette, cristiani, oltre 500, che sebbene il numero di chiami alla mente circostanze ben più etiche ed eroiche, hanno realizzato delle condotte che nulla hanno di etico e di eroico. Questa è la storia di un luogo, di una struttura di 20 locali, ecco quando si parla di locali si parla di locali in transita, e di un'associazione di individui tutti provenienti dalla stessa regionale dell'Italia, dalla costa ionica e dalla Calabria. Questa è la storia di chi voleva rendersi indipendente dalla mamma matrina, da questo cordone umbilicale, che non voleva decidere. Questa è la storia dell'andranghese di Lombardia, ma è anche la storia dell'andranghese in Calabria, perché non esiste perché è andranghetista, un diverso dalla Calabria. Tutto il mondo è diviso in Calabria e ciò oppure questo lo diverrà. Il modello culturale di riferimento rimane sempre quello calabrese che viene replicato, pur adattato alle contingenti di stereografico, sociale, economica e temporale, un modello arcanico ma sempre nuovo. Come disse un'andranghetista, noi abbiamo passato il Tretengo e il Futuro. Questo è proprio l'inizio, l'incitus di questo rapporto di Carabinieri titolato Infinito, sulla quale poi dopo si è basata un po' tutta quanta l'inchiesta da parte della Direzione di Stabilità Antimafia di Milano e di Reggio Calabria, che hanno portato all'arresto di 304 persone nel corso di questa settimana. Fra questi arresti, ecco qua. Leggiamo la parte forte che è stata pubblicata. Fermato il crimine. 300 arresti da Reggio a Milano. Quando si parla di crimine si parla di un'importantissima carica in seno all'arresto della mafia. Poi abbiamo il sottotitolo, Decapitata la mafia imprenditrice, ma avete anche quattro Carabinieri, per cui l'andranghetta aveva sull'incropaga questi quattro Carabinieri che facevano un po' da informatori su alcuni movimenti, adesso vedremo più avanti. La secessione delle coste e il commissariamento. La guerra tra i locali di Andrangheta, Lombardi e Reggini. Sì esatto, una guerra perché questo ha portato poi dopo a degli omicidi, degli omicidi eccellenti, eccellenti dal strutturista dell'andrangheta. L'andrangheta ha 500 affiliati in Lombardia, pensate un po'. Però questo dato è anche da confrontare. Purtroppo gli affiliati probabilmente ne ha diffuso, hanno diviso in 15 locali. La criminalità organizzata ha una diffusione ben più capillare di questi dati in Lombardia. Se 500 sono affiliati all'andrangheta in Lombardia possono sentrare tanti. Questo ha messo in rapporto con un dato che la stessa direzione di intellettuale antimafia di Reggio Calabria ci offre, attraverso quella che è un'intercettazione e dove ci sono due appartenenti all'andrangheta che discutono fra di loro e dal quale emerge che il numero degli affiliati nella sola città di Rosarno sono 250. Ecco, Fignatone, registrato Fignatone. Arrosarlo su 15.000 abitanti, 250 spiegati. La capacità di distrazione degli ambienti più diversi è la cosa più preoccupante. Fignatone lo ha affermato Fignatone, procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri a Milano per illustrare l'operazione che ha portato oltre 300 arresti in tutta Italia. Fignatone ha spiegato come l'indagine congiunta della BPA del Reggio Calabria Milano sia nata da un convincimento comune, posato anche dal procuratore nazionale antimafia pieno grasso, di contrattare l'espansione delle poste del Nord dell'Italia. Il procuratore della Repubblica è in occhio sottolineato l'esistenza di numero eccezionalmente alto di altri affiliati, anche nei piccoli centri, l'esistenza delle feglie collezioni abitanti al territorio calabrese e in questo caso in Lombardia, secondo il modello della colonizzazione. Poi questa colonizzazione non è altro che una replicazione del modello dranchetistico diciamo in altre regioni rispetto all'aspetto che attiva localmente in Calabria. Fignatone ha citato le intercettazioni di un mosto di Milandrina in cui si parlava di non meno di 250 affiliati di una cittadina come lo Sardi a 15.000 abitanti locali, quindi parliamo quasi del 2% della popolazione. Ma che anche in Lombardia può contare su circa 1.500 tra soldati e stati. Oltre a riprodire che i capi criminali danno l'importanza a minematerialità nell'organizzazione. Fignatone ha anche spiegato che le decisioni importanti venivano prese durante le feste patronali, matrimoni, battesimi e anche quelle che vengono definite le mangiate, cioè le mangiate che abbiamo visto in tutta la televisiva, come ad esempio che Samet in Lombardia ha fatto in quel centro paradossalmente dedicato a Luigi Falcone e Borsellino e poi dopo il tutto sforcia di solito sempre in una mangiata, in una cena. In questi momenti conviviali che Lombardia assegna le cariche e sviluppa i propri organigrammi e anche le proprie strategie. E poi, ecco, si vede qui proprio il modello organizzativo dell'Andrangheta che è esportato a Pievare dalla Calabria alla Lombardia. Lo possiamo devurre da questo articolo. Fatto luce sul domicidio Novella. Pagò con la vita il suo progetto rivoluzionario di rendersi indipendenti. Praticamente questa Novella era il capo di un locale che ad un certo punto voleva affrancarci dalle decisioni che gli erano prese in Calabria, voleva organizzare una propria, diciamo, staccarsi proprio dalla casa madre e si è stato punito e si è stato punito dalla morte, così come succede quando anche qui questi soggetti vanno fuori dagli schemi e cercano di fare un po' lavoro. Poi c'è Piero Grazio che dice violata la private dell'indrangheta e degli indrangheta e questo più diciamo una frase un po' paradossale ma per rimarcare l'utilità che in questa inchiesta gioco il ruolo che ha giocato l'intercettazione che si potrebbe modificare con le nuove leggi che sono al valio del Parlamento. Anche se la nuova intercettazione non dovrebbe toccare quelle che sono le inchieste di indrangheta ma il divieto oppure il nuovo modo di fare intercettazioni, il discorso di grave indipendenti di cortevolezza e via discorrendo, molte volte alcune organizzazioni criminali emergono, beh emergono quasi dalla naturalità. Magari si sta facendo un'intercettazione per altre ragioni, ci sono anche quello che c'è dell'altro sotto. Diciamo che questa rassegna stampa per oggi può terminare qua. Io sarebbe molto lungo perché solo su Palabria Ora ci sono più di 40 pagine di giornale che potrebbero essere viste sulle quali si potrebbe discorre. Io vorrei aggiungere soltanto un'altra cosa. Noi abbiamo una politica di comunicazione governativa in questo momento per quanto riguarda l'andrangheta e la criminalità organizzata in genere che è veramente sbagliata, sbagliata e corriente perché questa operazione crimine, questo anche lo dicono i magistrati, c'è un'operazione sicuramente importante, un bel posto dato a queste organizzazioni criminali, anzi l'intento accusatorio in questi giorni che si sta reggendo perché tutti i fermi sono a bagno dei giudici per le indagini interliminari e sono veramente pochissimi i fermi che non sono stati convalidati con le carcerazioni calentine. Mi e ci auguriamo che questa indagina possa andare avanti speditamente e possa arrivare ad un processo in modo da fare delle chierezze per mettere fuori gioco anche tutte queste persone che sono state fermate. Però ci dobbiamo mettere in testa due cose. La prima è che la criminalità organizzata all'andrangheta nello specifico a questa operazione è molto ben preparata. Se viene arrestato il capo dell'andrangheta a Ustelisano piuttosto che il capo di un locale, un capo crimine, c'è già pronto il suo sostituto come è normale che sia. Perché se io mi metto nei panni di un criminale è chiaro che metto in conto la possibilità di essere arrestato nel Stato. Quindi per dare continuità alle attività criminose per mantenere la mia famiglia e per portare avanti anche il dominio sui territori è chiaro che io mi preparo preventivamente a queste eventualità. Due, non bisogna ogni volta che vengono fatti i maxi sequestro di beni soprattutto far scullare molto le trompe e suonare le campane. Il Ministro Marono ogni volta c'è un maxi sequestro di beni mafiosi risulta come se il problema delle mafie in Italia fosse sul punto di essere risolte. Io do soltanto due dati. Ponte Esercenti ha fatto un po' le curci al fatturato della criminalità organizzata in Italia, a cui parliamo di forse nostre in Sicilia, Andrangheta in Calabria, Sacra Colonia Unita in Puglia e Camorra in Campania. Il fatturato delle mafie in Italia è pari a 130 miliardi di euro all'anno, cioè qualcosa come oltre 250 mila miliardi di mila. Io lo dico semplicemente per rimarcare che i miseri sono veramente al posto giusto. 130 miliardi di fatturato all'anno. Il Ponte Esercenti poi calcola che il sistema imprenditoriale mafiosi è un sistema che sul fatturato fa molto reddito, quindi gli ultimi sono valutati circa il 50% fosse impossibile per un'azienda che opera nella legalità. Quindi pensate voi questa massa di denaro che si riversa poi nell'economia legale ogni anno, 130 miliardi di fatturato e circa 65-70 miliardi di euro. Voi pensate che negli ultimi due anni quelli di Maroni che c'è un sequestro vado alla tarantella, quando fanno comprare in stampa, credo che ci siamo quasi. I sequestri di beni alle mafie negli ultimi due anni sono stati pari a 11 miliardi di euro, cifra assolutamente ragguardevole di tutto rispetto. Ma se la confrontiamo col volume del fatturato, 260 miliardi, 130 miliardi per due, perché sono trascorsi i due anni, 11 miliardi di sequestri su 260 miliardi di fatturato e un sollevitino, 11 miliardi di sequestri e poi ci sono sempre in questi due anni soltanto 2 miliardi di confitte, per cui è lì il vero danno che si opera alle macchie, alle coste. Quindi 2 miliardi di confitte, 11 miliardi di sequestri su circa 125-130 miliardi di utili è veramente un sollevitino. Siamo ancora in alto, alto, alto mare per incidere concretamente e seriamente nella lotta alla criminalità. E se voi andate sul sito del Ministero degli Interni, www.interno.it, vedete che in home page, in alto a destra, trovate proprio un box dove il Ministro Marone pubblica con puntualità certosina ogni mese i risultati del governo Berlusconi sulla lotta la macchia. Il risultato del governo Berlusconi, se permette il Ministro Maroni, i risultati della magistratura. Poi tra l'altro, questa inchiesta crimine, ad esempio, dove magari adesso è il Ministro Maroni che ci mette il cappello di sopra, cioè non è un'inchiesta che è nata tra ecco se ne si fa. Questa è un'indagine che i suoi albori ha delle radici che vanno ben oltre, quindi non è un discorso del governo di sinistra o di destra che mette il cappello sull'operazione. E' una politica, ecco concludo Roberto, una politica di comunicazione governativa sbagliata. Diciamo che l'approccio giusto non è mai quello dell'allarmare le persone, però dobbiamo allarmare i cittadini, però non ci dobbiamo rendere conto che il fenomeno criminale e mafioso in Italia è un fenomeno molto grave e manca un dato essenziale di tutto questo. Manca per esempio uno studio, uno studio scientifico economico che valuti le conseguenze a medio e limpo termine dell'intinamento del capitale criminale sull'economia legale. Perché poi ci sono tutte le attività di riciclaggi, questa enorme massa di denaro, io lo ripeto, solo l'andrangheta fattura 44 miliardi all'anno circa, di questi circa 21-22 sono di utili, di utili mezzi, quindi questi soldi poi dopo vengono riciclati e vengono immessi nel circuito legale, ma legale tra virgolette perché poi queste società apparentemente pulite continuano ad operare nel tessuto economico legale ma con logiche mafiose, per cui è una catena e un circolo vizioso e manca tutt'oggi uno studio preciso scientifico che abbia valutato e che ci faccia capire bene quali sono i rischi a meno e meno termine di questa alternatività e di questo impugamento dell'economia legale sull'economia legale. Io mi fermo qui perché con figura di Kale avremo sicuramente antispazi e molte possibilità di confrontarci su tutto quanto, su tutti questi argomenti perché avrà voglia di approfondire e di seguirli. Noi di Kale radicare di questo ci vogliamo occupare e lo faremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi con un impegno sempre più intenso e con la speranza che ci siano sempre più persone che vorranno darci una mano. Adesso mi taccio e voglio veramente a te Roberto ringraziarti di amore per aver animato questa figura di Kale e sono convinto che sarà una bella televisione. Marco io ti devo dire grazie a te, io non ho seguito l'inizio della rassegna stampa perché mi ero spostato un attimo come avevo preannunciato però come ho già detto prima tutti i contenuti che stiamo producendo oggi li stiamo registrando e saranno disponibili poi in modalità on demand sul nostro sito, ricordo il sito che è www.tvradicale.it, sito interattivo e dinamico sul quale è possibile registrarsi e produrre contenuti. Ora è chiaro che tu sarai una delle colonne di TV Radicale, è utile nascondercelo perché sicuramente il lavoro che fai con i compagni calabresi, già ho avuto modo di dirtelo altre volte, non è il caso adesso di stare qui a fare piageria a buon mercato, però veramente il livello di documentazione, di iniziativa politica e di impegno che ci mettete è veramente notevole e quindi è fondamentale che abbiamo uno spazio anche su TV Radicale. Marco io ti saluto, ti ringrazio e sicuramente magari la prossima settimana faremo una nuova puntata, una nuova rassegna stampa su un altro argomento riguardante la Calabria. Cosa ne pensi? Grazie. Sì, lo faremo sicuramente, mi metto a disposizione e continueremo l'altro video. Intanto ci organizziamo, perché questo è il numero zero, ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto solo ora che questo è il numero zero di TV Radicale e stiamo facendo una serie di test sulla banda e su altre cose. Comunicazione di servizio, io resto ancora 15 minuti a disposizione per chi vuole fare qualche domanda su una chat e poi dopo, vabbè, più tardi mi ripollegherò e continuerò seguiremo. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Ok, io adesso sono costretto a chiudere il collegamento con te. Abbiamo accumulato un ritardo di 8 minuti sul palinzesto, quindi salutiamo Marco Marchese e ci prepariamo per il prossimo collegamento che proviamo subito a fare che è con Silvana Boroncini, militante storica. Un ottimo Medillazione France è zero, apprezzato, scolto, fluo with